ci permette di prendere da che cosa è provocata la nostra vita commento è provocata dalle decisioni che la nostra evoluzione ci permette di prendere in una realtà in cui tutte le possibili esperienze sono dipanate nell'eterno presente noi decidiamo di fare un'esperienza e iniziamo a viverla le esperienze che non crediamo di avere mai scelto sono gli effetti di vite precedenti